E' proprio oggi, 4 dicembre, la nostra trasmissione 12 porte giunge al suo quinto anno di vita. Il settimanale televisivo della Diocesi di Bologna ha infatti esordito con la sua prima puntata, pensate, giovedì 4 dicembre del 2003. Questo giorno segna anche il 45esimo anniversario della promulgazione del decreto intermirifica del Concilio Vaticano II sugli strumenti di comunicazione sociale. 12 porte tenta di rispondere proprio al dettato conciliare che dice testualmente si promuovano con impegno le trasmissioni cattoliche mediante le quali gli uditori e gli spettatori vengono orientati a partecipare alla vita della Chiesa e ad assimilare le verità religiose. Siamo andati a ripescare uno dei servizi di quella prima puntata che vi vorremmo riproporre. Le immagini sono quelle storiche del Concilio. La voce un po' concitata è quella di Suor Teresa Beltrano che ci ha accompagnato nei primi quattro anni di impegno. Il tutto è preceduto da un frammento della prima sigla del settimanale e anche il nostro modo di dire grazie a tutti quelli che hanno collaborato e collaborano ancora con il nostro progetto e a tutti voi che ci seguite. Vediamo. L'intermirifica sugli strumenti di comunicazione sociale è stato il primo documento elaborato e approvato dal Concilio Vaticano II. I padri conciliari hanno ritenuto un dovere trattare dei principali problemi relativi agli strumenti di comunicazione sociale, esponendone i principi dottrinali e le norme etiche e morali. Il documento sottolinea i doveri di chi opera con gli strumenti di comunicazione e i diritti degli utenti. La Chiesa attraverso questo documento riconosce che gli strumenti di comunicazione sociale, sebbene adoperati, offrono al genere umano grandi vantaggi perché possono contribuire efficacemente a sollevare, arricchire lo spirito e a diffondere il regno di Dio. Molti sono stati dal 1963 ad oggi i passi che la Chiesa ha compiuto per attuare gli insegnamenti contenuti nell'intermirifica. Benedì scorso si è svolto nel seminario regionale un incontro con Don Dario Viganò, responsabile per la CEI del settore cinema e spettacolo e docente all'Università lateranense di Roma. Quello che è urgente fare, secondo Don Dario Viganò, è leggere la cultura da lì dentro, secondo il principio dell'incarnazione, per comunicare con passione la verità che per i cristiani è Gesù Cristo. E come sapete, fin dall'inizio 12 Porte ha avuto anche una sua versione su internet, al sito 12porte.tv, che contiene tra l'altro l'archivio completo della prima puntata, si è aggiunto anche il canale 12 Porte Bo su YouTube, nel quale abbiamo cominciato a riversare sistematicamente ogni servizio e che sta dando una notevole visibilità al nostro lavoro in Italia e in tutto il mondo.